Ciao ragazzi e bentornati con un nuovo video, molto breve, per farvi sapere che ho creato oggi, perché non avevo un caspita di meglio da fare, un nuovo canale che si chiama Volshente in Pillole. Cosa si trova su questo canale? Si trovano tutte quelle clip gentilmente create da voi su YouTube con i momenti più divertenti, le parti dove canto, il rage, insomma tutto quello che vi fa seguire il canale. Vi ricordo che streammo ogni sera su Twitch, stavo distruggendo il microfono, che streammo ogni sera su Twitch alle 21 e che sabato c'è sempre Notte Horror dove andiamo a finire dei giochi horror possibilmente belli perché ci impiega un sacco di tempo per andare a cercare. Per il resto potete trovarmi sul nuovo canale, il link sarà in descrizione, Volshente in Pillole, cliccate, guardate qualche video, ne ho già pubblicato oggi pomeriggio due o tre video così per farvi, per intrattenervi, per intrattenervi, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Un abbraccio e ci vediamo questa sera che è sabato con la Notte Horror. Ciao belli, ciao 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 ciao. Ciao.